A Caltanissetta un trentenne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dalla Polizia di Stato. L'uomo, pregiudicato, era agli arresti domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta per il reato di atti persecutori. Avrebbe nascosto in casa 14 grammi di hashish, 6 grammi di marijuana, 3 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione, una confezione di mannitolo, sostanza che gli spacciatori usano per tagliare gli stupefacenti e anche una boccetta di popper. Sostanza con proprietà tossiche che si assume per inalazione, altro materiale per la confezione delle dosi. Questo quanto ritrovato dagli agenti della Polizia di Stato durante la perquisizione domiciliare e quanto sequestrato. Sotto sequestro anche due fucili ad aria compressa detenuti dall'uomo per accertare eventuali modifiche per accentuarne la capacità offensiva. Gli uomini della sezione volanti hanno denunciato il trentenne alla Procura della Repubblica Nissena. L'uomo aveva già precedenti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.